Buonasera a tutti cari studenti e benvenuti in questo nuovo video in cui vi presenterò 15 verbi irregolari inglesi. Ecco allora i paradigmi di questi primi 15 verbi irregolari nelle loro forme base, simple past and past participle. Quindi cominciamo! Become, became, become. Diventare. Be, was, where, been. Essere. Bring, brought, brought. Portare. Beat, beat, beaten. Battere. Begin, begin, begin. Iniziare. Bite, beat, beaten. Mordere. Blow, blue, blown. Soffiare. Burn, burned, burned. Bruciare. Build, built, built. Construire. Break, broke, broken. Rompere. Buy, boat, bought. Comprare. Catch, caught, caught. Prendere. Choose, chose, chosen. Scegliere. Coast, coast, coast. Costare. Come, came, come. Venire. Ecco allora questi primi 15 verbi irregolari con i quali spero di avervi dato un piccolo aiuto nella memorizzazione dei paradigmi dei verbi irregolari inglesi che si sa sono uno scoglio difficile da superare sia alle scuole medie che alle scuole superiori. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace sotto il video, condividetelo, diffondetelo tramite whatsapp ai vostri amici e soprattutto lasciatemi un commento chiedendomi in seguito sarò molto felice di realizzarlo per voi. Buonanotte e buono studio.